Oggi vi porto con me nella nostra prima vacanza da sposati, ci siamo imbarcati da Genova per arrivare in Sardegna, erano quattro anni che non ci tornavo e questa volta in traghetto avevamo una cabina meravigliosa, questa qui è la suite ed è super spaziosa, infatti meritava assolutamente un mini tour, cioè c'era anche il televisore e c'erano due finestre enormi, una nella zona del salotto e l'altra nella camera che tra l'altro era veramente ampia. C'erano persino due comodini e una scrivania, cioè una cabina così grande non mi era mai capitata e tra l'altro prevede anche la colazione in camera, quindi abbiamo fatto il nostro ordine prima di andare a dormire. Al mattino verso le 6 eravamo svegli per vedere il sorgere del sole ed è stato uno spettacolo meraviglioso, poco dopo ci hanno portato la colazione mentre il traghetto si avvicinava al porto di Olbia, sono state 12 ore indimenticabili. L'arrivo al porto poi secondo me è sempre qualcosa di meraviglioso.